Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, io sono Erika e la mia storia all'Insubria è iniziata poco meno di otto anni fa. Ho frequentato il corso di laurea triennale Economia e Management e una volta laureata sono passata al corso magistrale Global Entrepreneurship Economics and Management, Curriculum Economics Innovation. Durante il percorso di laurea magistrale ho preso parte anche al progetto di double degree presso l'Università Teresca di Uline. L'Università degli Studi dell'Insubria, sebbene sia più piccola rispetto a tante presente sul territorio, ha sempre cercato di offrire agli studenti nuove e numerose opportunità. Per esempio, nel mio caso, con il progetto di double degree ho avuto modo di internazionalizzarmi passatemi un po' il termine, e da due anni lavoro per una multinazionale americana e da un anno e mezzo ormai vivo a Londra. Questa è la mia storia, ora tocca a voi scriverla vostra, in bocca al lupo!